dai Ale, li faceva al chicco ai tempi, sia questo che quelli la però qua è tutto asciutto, fino a su in cima è asciutto ma è tutto asciutto fino in cima adesso, no è la avanti sei sicuro? non quello del cicliatore cioè, ma ti rendi conto? guarda che filo che hai tirato da qua fino a là oh ma ti rendi conto? ma che cazzo? il filo? anch'io, pensiamo per un filo incredibile, va fang, cuore allora ora ciao ciao ciao